Sad Satan è un controverso videogioco horror che ha guadagnato notorietà online. È noto per il suo contenuto disturbante e inquietante, che include immagini illegali e audio perturbanti. C'è da dire che siete sadici. Non molti canali YouTube possono vantare nel loro repertorio un video su Sad Satan, ma qui abbiamo fatto il jackpot, perché ne abbiamo addirittura due. Qualche anno fa, infatti, sono venuto a contatto con Sad Satan, ma devo dire la verità. A quell'epoca non brillavo per soglia dell'attenzione, diciamoci la verità. Sad Satan è ciò che ad oggi è ancora conosciuto come il videogioco del deep web e cercando molto sono riuscito a reperire una copia per dargli un'occhiata. Ovviamente questa volta per farla partire ho utilizzato una macchina virtuale. Si tratta di un sistema operativo finto nel sistema operativo vero, diciamola in maniera molto terra-terra, perché anche se le voci su Sad Satan fossero infondate, io sinceramente non ci tengo a ricomprare una postazione intera. Solitamente non sono così tanto paranoico, ve lo dico spesso che non bisogna usare la macchina virtuale per aprire Word, perché oddio, bisogna un attimo capire dove e quando. Però per questo gioco ho deciso di fare un'eccezione. Si dice infatti che questo gioco provenga dal deep web e che sia stato portato alla luce da qualcuno che durante un'esplorazione ha avuto la sfortuna di incappare in questo file. Le voci che circolano sono davvero tantissime e sono accompagnate anche da alcune registrazioni tuttora pubbliche. Su YouTube, infatti, ci sono alcuni canali che anni fa hanno pubblicato i primi video in cui mostravano questo gioco nella sua interezza, ma esistono più versioni dello stesso, tra cui quella che viene reputata la vera versione, estremamente illegale ovviamente. Una delle particolarità che mi hanno fatto incuriosire tantissimo è stata quella per cui, sempre secondo queste dicerie, questo gioco sarebbe davvero in grado di prendere il possesso del computer. E anche se cancellato per sempre, sarebbe in grado di riduplicarsi all'infinito, facendo addirittura esplodere, secondo queste voci, il dispositivo sul quale è stato installato. I contenuti del gioco si dice che siano criptici e illegalissimi. Al suo interno, infatti, sarebbero contenuti audio di veri delitti, contenenti urla di vere persone, contenuti espliciti ed estremamente violenti e cruenti sui bambini, e molto altro. Ovviamente la cosa mi ha incuriosito e sono tornato a dare un'occhiata a questo gioco dopo quasi tre anni. E per sostenere questa folla impresa, abbiamo come sempre qui con noi, Pampling. La maglia che indosso, infatti, arriva dal set di Pampling. In particolare la scena famosissima del Re Leone, dove sono sul tronco, però stile giapponese. Trovate tutto sul loro sito e in questo momento è pieno di offerte invernali. Due felpi a 31,90€ e il 3x2 sui boxer. Quelli di Pacman rimangono su durante l'amplesso, signorina. Utilizzando il mio codice Gematria a tutto maiuscolo, potrete approfittare di ulteriori sconti sugli sconti, di alcune calze gratis, e ovviamente sostenere tutto quello che facciamo qui. Stiamo per cominciare, ragazzi, quindi prima di mandare la sigla vi avverto. Ciò che andremo a vedere oggi è estremamente pesante, molto cruento, e se a un certo punto del video sentite di non farcela più, non vergognatevi, chiudetelo. Passate avanti e ci vedremo la prossima volta. Per tutti gli altri, invece. Buonasera, visualizzazioni e bentornate in questa nuova puntata di Sottobosco. Sad Satan, come già detto, è conosciuto per essere il videogioco proveniente dal deep web, un qualcosa con cui non bisogna affatto scherzare. Essendo famoso per essere capace, tra le tante cose, di provocare gravi danni al computer, e addirittura il suo possessore, non sono in tanti quelli che hanno deciso di scommettere e di provarlo. E lo credo bene, la fama oscura di questo gioco lo precede ovunque, e il posto dal quale a quanto pare viene non aiuta affatto. Sad Satan è stato scoperto grazie a un utente, avente la possibilità di accedere alla parte più interna del nostro internet, che si è battuto in un videogioco chiamato appunto Sad Satan. In curiosito ha deciso di scaricarlo, ignaro di quello che si sarebbe trovato davanti e tutto ciò che avrebbe comportato. Sad Satan viene descritto come un raccapricciante gioco di cinque livelli, di cui solamente uno è accessibile al pubblico, mentre gli altri quattro sono stati scoperti da uno youtuber di nome Obscure Horror Corner. I livelli sono indipendenti e non si hanno informazioni sul suo creatore. All'interno del canale Obscure Horror Corner sono presenti i gameplay di cui vi parlavo all'inizio del video e sono tutto meno che rassicuranti. Il canale ad oggi conta quasi 100.000 iscritti ed è stato creato il 14 gennaio del 2014. Delle 8 milioni circa di visualizzazioni totali del canale, la maggior parte sono concentrate tra i primi quattro video a livello di visual, che sono appunto tutte le puntate, tra virgolette, in cui giocava Sad Satan. Essendo il canale YouTube da cui tutto è iniziato, sarebbe davvero strano il contrario. Il video più visto per il primo success Aten conta 4 milioni di visualizzazioni. I video durano tutti all'incirca 10-12 minuti e sono dei gameplay senza commentari del gioco. La sensazione che si prova guardandoli è veramente indescrivibile. Per quanto mi riguarda, è un misto fra fastidio e disagio. È un po' come se non dovessi essere qui per ormai, eccoci. Ovviamente, essendo conosciuto come il videogioco del Deep Web, Sad Satan ha contribuito a creare disinformazione sullo stesso. Quindi per andare avanti e per capire meglio un po' di cose, ci serve sapere due informazioni principali, ovvero la differenza tra Deep Web e Dark Web. Farò abbastanza in fretta, ve lo prometto. Per Deep Web infatti si intende semplicemente ciò che non è ricercabile su un motore di ricerca classico, quale può essere Google, Bing, Safari, o magari è qualcosa protetto da una password. E qui ci ricade veramente di tutto. Potrebbe essere la chat WhatsApp con la vostra migliore amica, nelle quali dite delle cose intelligentissime. Potrebbe essere la vostra mail. Tutte queste cose qui fanno parte del Deep Web. Infatti non potete accedere alla mail di qualcun altro, alla chat WhatsApp di qualcun altro, cercandola su Google. Il Dark Web invece è quella parte di internet in cui bisogna essere molto esperti per poter accedervi. Ed è anche il luogo di internet nel quale si svolgono la maggior parte degli affari illegali pesanti. E qui si potrebbe aprire un mondo, però al momento non ci interessa. Perché vi ho voluto dire questa cosa qui? Ci serve sapere questa roba del Dark Web e del Deep Web per poter comprendere meglio un particolare molto interessante che riguarda Seth Satan. Ovvero il link con il quale Jamie, il proprietario di Obscur Horror Corner, ha diffuso la copia di Seth Satan che aveva portato su YouTube. Infatti se vi venisse mai in mente di aprire un link del Deep Web o del Dark Web su un browser normale, questo vi darebbe errore. Perché questo? Perché appunto i link per poter accedere a quella parte di internet sono diversi dai link che vi siete sempre trovati davanti. Si parla infatti di link.onion, che vengono usati per la maggior parte con browser come Tor, uno dei più famosi. Ora, all'interno del link postato da Jamie sembrerebbe essere tutto a posto, tranne per un piccolo particolare. All'interno del link.onion, infatti, un numero non compare mai, il 9. Mentre all'interno di questo link, che infatti dava come risultato un errore, c'era questo numero. Fatto molto strano, però ne riparleremo tra un po'. Adesso andiamo a vedere molto più da vicino il gioco. Ed è qui dove i più sensibili di voi, forse, dovrebbero fermarsi. Questo è Sad Satan. Non sembra che ci sia un vero e proprio scopo, tranne quello di camminare lungo una serie di corridoi in una specie di labirinto tetro e oscuro, mentre come sottofondo viene proposta una colonna sonora molto inquietante. Percorrendo i livelli del gioco, la visuale del giocatore sarà vittima di brevi flash di foto in bianco e nero, ma anche di monologhi spesso indecifrabili. Indecifrabili per la maggior parte delle persone, ma non per me, che purtroppo, tra virgolette, questa roba qua la conosco molto bene. Il gioco inizia in un corridoio, senza un soffitto. Infatti possiamo vedere quello che sembrerebbe essere un cielo al mattino presto o al tramonto, non si capisce benissimo. Procedendo e arrivando alla fine del corridoio, si nota che non c'è nulla oltre questi tre pannelli. Ma proprio nel momento in cui tutto sembra molto banale, si inizia a sentire un audio davvero destabilizzante. L'unica cosa che si può fare a questo punto è tornare indietro e cercare di capire dove vuole andare a parare tutto questo. Andando avanti nella nostra disturbante passeggiata, il gioco inizia a cambiare e a diventare veramente fastidioso da poter guardare. Tutto diventa bruciato in bianco e nero, rendendo ogni cosa estremamente difficile, anche soltanto da guardare di sfuggita. Mi è successo davvero di rado con un videogioco negli ultimi anni avere del dolore agli occhi, ma mi ha ricordato quando da piccolo avevo gli schermi degli anni 90 e se ti ci mettevi troppo vicino ti facevano male gli occhi perché non erano fatti per queste cose qui. Quindi se mo' devo andare a rifarmi gli occhiali, ringraziamo Sad Satan. Qui sono presenti due immagini in bianco e nero. La prima raffrigura Francesco Giuseppe, nono principe di turn in Repubblica Ceca. La foto viene definita come bizzarra in quanto il principe, per un effetto ottico, sembra indossare sul capo delle corna, dato che lungo il corridoio in cui si trova sono disposte sulla parete molte corna di cervo. La seconda fotografia invece ritrae Margaret Thatcher e Jimmy Saville. Jimmy era stato accusato di aggressioni nei confronti di bambini e la sua presenza all'interno del gioco sicuramente non è un caso. Non è un caso infatti neanche il fatto che la musica, se analizzata, soprattutto invertita, parli di abusi nei confronti di bambini. L'intera soundtrack del gioco è stata tirata fuori dai file della directory e ricaricata da un altro utente, per chi si volesse così male da usarla come playlist durante le passeggiate notturne. È una cosa che non vi consiglio. Assolutamente non per esperienza personale. Il secondo livello parte in maniera più calma, anche se si viene subito messi di fronte a un'immagine che definire alienante è dire poco. In sottofondo ci sono altri audio sempre più disturbanti. Ma qui ci si imbatte in delle immagini di John Fitzgerald Kennedy, immortalato pochi attimi prima di lasciarci durante l'attacco che tutti si ricordano. La sua figura è accompagnata dall'immagine di un caprone satanico, molto inquietante. Non serve neanche che vi dica che ciò che state vedendo in questo momento è estremamente disturbante e la grafica del gioco diventa sempre più contorta, mentre tutto diventa sempre più confusionario. A un certo punto tuttavia incontriamo quella che sembrerebbe essere una bambina, ma c'è qualcosa di strano. Infatti le sue fattezze sono estremamente grottesche. Il volto della bambina è tumefatto e il modo in cui si muove è troppo anomalo. I dialoghi sono riprodotti al contrario e fanno da contorno all'ultima immagine del livello, immortalante foto di alcuni bambini che giocano, probabilmente in scenari di guerra. A un certo punto, poco prima della fine del secondo livello, veniamo circondati da delle bambine, mentre tutto si devasta ancora di più. Questo mi ha fatto pensare a quella che poi sono andato un attimo a cercare, che mi è ritenuta la versione originale del gioco. Perché qui, che è in quella versione, cominciano ad esserci i primi contenuti espliciti di bambini. Non penso che ci sia molto da aggiungere, purtroppo è una delle cose più frequenti da trovare nel dark web. E purtroppo questo è. Accedendo alla terza parte del gioco, troviamo un lungo monologo di Charles Manson, registrato nel 1980. Il fatto più brutto è che durante questo monologo vengono flashate al giocatore, in questo caso io, delle foto di corpi mutilati e bruciati. Il fatto strano è che queste immagini non si sono manifestate a tutti coloro che hanno giocato a Seth Satan, quindi probabilmente questo spiega le più versioni del gioco. Tuttavia, dopo il lungo monologo, si giunge a un corridoio illuminato da delle lanterne, che faranno apparire sullo schermo la scritta La sofferenza non finisce. Arriviamo adesso al quarto livello. Siamo in presenza di lamenti, suoni ignoti e del comune suono di passi che si allontanano o si avvicinano. Le immagini che vengono mostrate al giocatore rappresentano Tsutomu Miyazaki, che venne condannato alla pena capitale nel 2008. Fu colpevole di aver mutilato e abusato di bambini tra i 4 e gli 8 anni, bevendone poi il sangue. L'ultima foto del livello, invece, raffigura Rolf Harris, vestito da Babbo Natale, condannato nel 2014 per ciò che sicuramente avete già capito. Il gioco termina con il quinto livello. L'altra immagine, invece, raffigura Roman Polanski, arrestato anche lui per sempre la stessa cosa. E la cosa che in realtà mi ha fatto pensare è che Roman Polanski è collegato a Charles Manson, perché durante tutte le sue scorribande Charles Manson si è reso colpevole di aver fatto fuori la moglie di Polanski, tra l'altro mi sembra incinta. Infine, viene raffigurata anche un'immagine dei druidi nella famosa località di Stonehenge. Il gioco in realtà è tutto qui, ma abbiamo raschiato soltanto la punta di questo iceberg. Approfondendo un po' e dando un'occhiata ai file, infatti, ci si rende conto che questo gioco è davvero semplice dal punto di vista della struttura e della programmazione. Infatti, parrebbe essere stato creato con principali due motori grafici che sono stati presi come probabili colpevoli, diciamo. Il primo è Unity, che è un motore grafico che viene utilizzato molto da persone soprattutto in erba nel campo della programmazione di videogioche. Ci sono tuttavia delle voci che parlano del Terror Engine, creato dalla Zeoworks. Sono quelli che hanno creato Slendytubbies, un misto fra Slenderman e Teletubbies. Non chiedetemi perché lo so. La Zeoworks, tuttavia, si è dissociata fortemente da Sad Satan, dicendo che sì, il motore grafico è loro, ma loro non si sono mai messi a programmare quella roba lì. I modelli di Sad Satan sono semplicemente dei modelli modificati e posterizzati di modelli preesistenti, inclusi gli NPC, come la bambina. Ciò non toglie che ciò che fa veramente paura di questo gioco non è il gioco in sé, sono i contenuti presenti all'interno, che siano audio, foto, video, quel che sia. Ma non è solo questo, perché in realtà, tra le tante cose che Sad Satan, nel suo repertorio di cose orribili da vantare, ha il fatto che il gioco in realtà, tra i tanti cloni che è involontariamente fatto generare a internet, ne può vantare alcuni capaci di infettare il PC con dei virus che distruggono davvero tutto. Infatti su Reddit è pieno zeppo di persone che cercano di sistemare i danni prodotti da questa versione. Possiamo quindi cercare un attimo di tirare le somme di tutto quanto. Considerando almeno il fatto che tutta la gente che sia lì ad armeggiare con i propri computer dopo aver installato quelle copie di Sad Satan stia dicendo la verità, tra l'altro virus capaci di bypassare gli antivirus, Insomma, vorrei condividere questa analisi del file .ex associato alla versione clonata del gioco Sad Satan. L'analisi non è stata fatta da me. Ero solo molto curioso di scoprire quale tipo di malware si celasse dietro ai problemi che ha causato a molti settori di avvio di Windows e l'ho trovata cercando in giro su internet. Sembra contenere alcuni bypass di macchine virtuali e rilevatori. Stabilisce connessioni con server, quindi controlla più avanti sulla pagina per gli indirizzi IP, così vedi tutto. Per Dio solo sa quale scopo. Non so se i contatti con il server vengono principalmente utilizzati per scaricare malware sul PC infetto e se questo può essere fermato semplicemente limitando l'accesso internet per il file .ex o se sono utilizzati per tracciare, quindi spiare, il PC infetto. In particolare all'interno del post si parla di botnet, ma non sto qui ad essere troppo specifico perché altrimenti non finiamo più. Ciò che è curioso però è il fatto che nel canale Obscure Horror Corner siano presenti dei video antecedenti a quelli su Sad Satan che sembrano essere delle pre-alfa di questo gioco. A questo punto tutti quanti hanno giustamente pensato Aspetta un secondo, ma allora lo ha programmato lui Sad Satan? Considerando anche il fatto che prima di questi video non se ne è mai sentito parlare, facendo apparecchio strana e anche che il link per scaricarlo non solo non funzionava, ma lo ha diffuso lui per la prima volta, con quel 9 in mezzo, tutto comincia a prendere senso. Anche se in realtà le versioni corrotte e incontrollate di questo file, veramente dannose, circolano veramente tutt'oggi e sono veramente pericolose. Ci sono quindi tre teorie principali che spiegherebbero questo delirio. La prima teoria vuole che Jamie di Obscure Horror Corner stesse dicendo la verità e che tutto questo sia vero. Questa teoria non affonda per niente la radice nella realtà. Perché, se così fosse, vorrebbe dire che questo tizio ha caricato tutto su YouTube e si è messo a togliere tutti quanti i pezzi gore, tutte quante le cose esplicite, ma data la fluidità dei video, non penso proprio. Magari cercando anche di raccogliere della popolarità, che vogliamo dire in realtà in piccola parte è anche raccolto, soltanto che non ci farà mai nulla con questa popolarità. La seconda teoria vuole che Jamie di Obscure Horror Corner stesse mentendo, ma che i cloni abbiano cominciato a esistere davvero, inizialmente come troll di 4chan, e che man mano nel tempo siamo diventati sempre di più un covo di virus. La terza teoria vuole che sia il gioco originale, che i primi cloni dello stesso, siano tutti opera di questo Obscure Horror Corner. Io sinceramente propendo per la seconda teoria, perché mi sembra quella più sensata e quella più logica di tutte. Oltre al fatto che spiegherebbe molto di tutta la vicenda, però fatemi sapere che cosa ne pensate voi. In conclusione, il gioco, a quanto pare, non viene veramente dal dark web, ma per quanto riguarda i cloni è come se fosse davvero così, almeno dal punto di vista della pericolosità degli stessi. Il rischio che si corre ad avere a che fare con alcune copie di questo file è indubbio, anche se la versione originale era semplicemente un troll, o un modo per far parlare di sé. Ciò che poi la gente ha fatto col gioco è storia nota, e lo sappiamo tutti quanti. Questo, cari miei, era in breve tutto ciò che c'era da sapere sul Sad Satan. È stato davvero interessante infugnarmi in questo caso, devo dire la verità. Quindi se avete altre richieste particolari, basta farmelo sapere qui sotto nei commenti. La puntata di Sottobosco di oggi, quindi, può volgere al termine. Io vi ringrazio di essere stati qui con me anche oggi. Prima di salutarvi vi ricordo semplicemente che qui sotto in descrizione avete il mio link e il mio codice sconto di Pampling per poter approfittare di tutte le offerte, ma avete anche TikTok, Instagram e tutto il resto dei miei social. Mi raccomando, fate un salto un po' da tutte le parti, perché è pieno di roba. Detto questo, grazie ancora a tutti, e noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.